Musica Buon pomeriggio, bentrovati da Andreina Lozito in diretta dalla redazione di Telebari. In apertura il Consiglio Comunale è cominciato poco fa, la prima giornata di discussione in aula ad Alfino sul bilancio di previsione. Il centrodestra promette battaglia, ci spiega tutto Serena Russo. Con un pochi mal di pancia per via dell'orario di convocazione è cominciata poco fa, la prima giornata in aula ad Alfino dedicata al bilancio di previsione. Approvazione del programma triennale delle opere pubblico 2012-2014, approvazione aliquota e detrazioni per l'applicazione dell'Imu, relazioni previsionali 2012 di Amtab, Amiu, Multiservizi e Amgas. Sono questi gli argomenti che saranno snocciolati in questa due giorni a Palazzo di Città, in cui si preannunciano sorprese. Il centrodestra è già pronto a dare battaglia, con 7 emendamenti, di cui la maggior parte già corredati di pareri favorevoli e ben 14 pregiudiziali, esattamente lo stesso numero dello scorso anno. Un libro dei sogni è la prova della superficialità dell'amministrazione. Così è stato definito dal centrodestra il piano che in questo momento è l'attenzione dell'interassise, basato sulla realizzazione di una serie di interventi provvissi del solo progetto preliminare, quando c'è, e con finanziamenti derivanti da allineazioni di immobili di proprietà comunale, allineazioni per cui non è stato emanato alcun bando. Queste sono solo alcune delle eccezioni avanzate dal capogruppo della lista Simeone, che abbiamo incontrato poco prima dell'avvio dei lavori. Una tra le 14 parlano di Palaflorio, un'altra della Rossani. Sì, per quanto riguarda il Palaflorio, il decreto legislativo 163 del 2006, cioè il codice degli appalti, prevede e obbliga l'amministrazione a poter mettere nell'anno di riferimento, quindi nel 2012, la prima annualità, interventi che siano in possesso almeno del progetto preliminare oppure di uno studio di fattibilità. A noi non risulta che vi siano questi requisiti. Sarà poi l'Aula a valutare, sia dal punto di vista tecnico per quanto riguarda la struttura, sia dal punto di vista politico la sostanziale verità di questa nostra pregiudiziale. Ma è difficile che ci si sbagli, insomma. Per quanto invece riguarda la caserma Rossani? Si lascia un po' stupiti questa questione della Rossani. In effetti tutti sanno che l'amministrazione comunale ha revocato il recente studio di fattibilità per 89 milioni di euro, in quanto le idee della politica rispetto a questo tema sono idee nuove che verranno, quindi si tenterà di far evolvere le idee. È strano che sia rimasto invece, pur essendo stato revocato quest'ultimo studio di fattibilità, inserito un intervento che fa capo al precedente studio di fattibilità. Per cui se è vecchio quello ultimo, immaginiamo quello precedente ancora. Quindi riteniamo che su questo ci sarà battaglia in Aula. Passiamo alla crona che ha ancora mistero sull'omicidio del pregiudicato barese Massimiliano Villoni, ucciso ieri nella sua abitazione in via Durazzo nel quartiere Madonnella. Più di una le piste eseguite dai carabinieri del reparto operativo di Bari, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia. Non si esclude che l'omicidio sia maturato negli ambienti della malavita locale. Ma per gli aggiornamenti sentiamo Cristina Ferrini. Sono stati ascoltati quasi tutti gli inquilini dello stabile di via Durazzo numero 7 per far luce sull'omicidio del pregiudicato barese Massimiliano Villoni, di 38 anni, ucciso ieri pomeriggio nella sua abitazione con un solo colpo di pistola sparato alla testa. Un agguato eseguito con modalità tipicamente mafiosa, quello di Villoni sottoposto a regime di sorveglianza speciale, era agli arresti domiciliari. Villoni era solo in casa quando è stato ucciso. Qualcuno sarebbe entrato nella sua abitazione al piano terra e gli avrebbe sparato un colpo secco alla testa. Il cadavere è stato trovato sul letto da una donna che era appena rincasata. I carabinieri del reparto operativo, coordinati dal PM della direzione distrettuale antimafia, Ciro Angelillis, hanno ascoltato fino a questo momento una ventina di persone, anche alcuni pregiudicati vicini a Villoni, per cercare di scoprire eventuali vecchie nuove alleanze dell'uomo con le famiglie malavitose baresi, ma nulla è emerso finora. Massimiliano Villoni è ritenuto dagli investigatori un cane sciolto del crimine, ora vicino a un contesto criminale, ora un altro a seconda delle circostanze, ma non figlio della malavita organizzata. Tra le ipotesi e l'origine dell'agguato c'è quella di uno sgarro maturato negli ambienti della malavita locale. Sequestrata l'arma con cui ieri un 60enne baresi avrebbe tentato di uccidere la sua ex, sparandole un colpo alla testa. Si tratta di una pistola scacciacani. Il folle gesto consumato in una via del corso principale di Mola di Bari sarebbe avvenuto al culmine dell'ennesima discussione per motivi di gelosia. La donna è ancora ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Venere di Carbonara, mentre l'ex compagno è stato arrestato. Ancora cronaca, un'area di 5.000 metri quadrati edibita a parcheggio auto per i croceristi è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza nel porto di Bari. La recensione nel parcheggio potrebbe essere irregolare, in particolare in questo servizio. Presunta violazione delle norme edilizie che disciplinano la recensione dei parcheggi su aree ed emmaniali. Questa è l'ipotesi di reato che ha portato al sequestro preventivo dell'area di 5.000 metri edibita a parcheggio nel porto di Bari sulla banchina Massi. Area utilizzata principalmente dai croceristi con una tariffa che parte dai 10 euro al giorno per le auto ai 15 euro giornalieri per i camper. Tariffa certo non economica ma tutto sommato accettabile se si pensa alla vicinanza dell'area alle navi per l'imbarco. Ieri i sigilli dei militari del secondo gruppo della Guardia di Finanza che hanno ritenuto la recensione dell'area irregolare e che hanno fatto scattare il sequestro. Un imprevisto che ha creato non pochi problemi ai croceristi di rientro a Bari per il recupero della propria auto. L'area in questione ha di recente cambiato gestione e è passata dalla cooperativa Multiservizi Portuali ad una piccola società il cui titolare pare e si occupe di produzioni cinematografiche. Il titolare è stato denunciato anche per alcune violazioni al codice della strada. E voltiamo pagina. Gioca alla luna, la notte dei bambini e delle bambine in programma nella città vecchia la sera del 31 luglio. Il progetto portato avanti dalla cooperativa sociale Progetto Città è patrocinato tra gli altri dal comune di Bari e dalla nona circoscrizione. Spettacoli di teatro, laboratori per la costruzione di libri pop-up, giochi e animazioni all'aperto per finire con la creazione di lanterne che saranno fatte volare in chiusura con i messaggi dei bambini. Sono solo alcuni degli appuntamenti in programma. E in contemporaneo con i giochi olimpici a Londra, Bari ricorda con una mostra il lottatore Pietro Lombardi che nel 48 proprio a Londra conquistò la medaglia d'oro. Vediamo. Dopo 64 anni tornano a Londra i giochi dei Cinque Cerchi. L'ennesimo nostro inchino è per Pietro Lombardi, ultimo campione olimpico dei 106 anni di storia della società ginnastica Angiulli. Queste le parole di Franco Castellano, presidente dell'Associazione Nazionale Veterani dello Sport, che si è battuto assieme al Coni Pugliese e all'Angiulli per riportare, in contemporanea con l'apertura dei giochi londinesi, la memoria di quell'uomo piccolo di statura, ma il cui grande cuore e una smisurata passione, lo portarono nel 48 a battere tantissimi avversari e a conquistare la medaglia d'oro nella lotta greco-romana. La Bari di allora lo accolse raccogliendosi nelle strade del centro cittadino, cantando e osannando quel lottatore che si era tanto fatto al valere. La Bari di oggi invece lo ricorda con una mostra a lui dedicata. Foto, articoli di giornali e cimei originali conquistati da Pietro il Grande in quegli anni. Le sue medaglie, la sua tuta, ma anche la giacca blu che indossava negli eventi formali. Ieri si sono aperti giochi olimpici e la città di Bari ricorda la figura di Pietro Lombardi. Che emozione per lei, presidente? Una grande emozione perché io ho vissuto anche quello che fu l'Olimpiade di Londra 1948 e come presidente dell'Unione Nazionale Veterana dello Sport di Bari ho ritenuto opportuno insieme ad altri amici e altre aziende di organizzare una mostra in suo onore che ha avuto un grande successo e quindi ricordare quel tipo di Olimpiade e dire che oggi nel 2012 Londra non vede nell'attività sportiva nemmeno un barese e mi sembra un particolare molto da evidenziare. Quindi è chiaro che dobbiamo ricordare Pietro Lombardi come tanti altri olimpionici che sono passati sulle spalle dello sport barese, sempre ricco ma in questo momento abbastanza povero. La mostra è stata inaugurata due giorni fa, qui sono presenti dei cimeli storici originalissimi quindi non delle copie e si è registrato il pienone. Sì, abbiamo avuto veramente un pienone, ci ha meravigliato moltissimo, si vede che la gente era interessata a questo tipo di organizzazione, a questo evento e siamo rimasti felicissimi. Mia cognata è una vipera, il titolo dello spettacolo invernacolo a cura dell'associazione Riete con Sabino Armenis e che andrà in scena questa sera in piazza Vittorio Veneto a Torre Amare. L'evento si colloca tra gli appuntamenti in programma nel progetto Bari per Bari che affianca quelli previsti al Summer Music Village e che si svolgeranno in tutti i quartieri della città. L'appuntamento per questa sera è alle 20 e 30. In chiusura il meteo, cielo sereno, venti moderati, temperature fino ai 34 gradi. Io vi ricordo i nostri indirizzi internet telebari.it, radiobari.net e infochiocciolelsagnodizoro.it E per questa edizione è tutto, vi auguro una buona giornata.